Siamo alla terza presso il comitato elettorale di Agostino Perrone, detto Costantino. Lui è candidato alla Regione con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. E allora, Perrone, i motivi della sua candidatura? Perché Perrone si candida alla Regione? Io direi che dopo 15 anni di esperienza amministrativa sento il dovere di rappresentare la terza a livello regionale, anche perché sul nostro versante occidentale non c'è nessuna rappresentanza per la Regione. Visto i problemi che abbiamo su questo versante, iniziando diciamo dagli agricoltori e la gestione di questa amministrazione uscente diciamo regionale, la gente diciamo io essendo riferimento politico locale ho appriso tutte queste cose e mi ha portato a decidere di rappresentarne. Diciamo che lei dopo numerosi anni di attività amministrativa, voi come assessore e voi come consigliere di opposizione, ha ritenuto opportuno che le problematiche di la terza e dei territori limitrofi della provincia di Taranto debbano avere la giusta considerazione e consacrazione in sede regionale. Perché diciamocelo molto spesso in questi anni il nostro territorio è stato, Taranto è stata, Taranto è stata la sorellina povera, la cenerentola, la realtà che ha dovuto sempre sacrificarsi sull'altare di Bari e di Lecce. Beh io devo dire su questo per quanto riguarda il nostro versante c'è stato molto personalismo e egoismo e non si è fatto di tutto di portare qualcuno dei nostri in regione. Ma sento proprio questo dovere di rappresentarli io anche perché ho un rapporto con Fitto da circa 15 anni, l'ho sostenuto sempre e oggi diciamo che abbiamo una possibilità di andare a governare e ci sono tante e tante cose da risolvere. Grazie.